Signori, dopo il video di previsioni e live reaction, eccoci all'ultimo video di questa trilogia dedicata a PlayStation 5 con il commento a mente più fredda. Se non si era capito già dal live reaction, c'è solo una parola per definire tutto questo. Wow! Wow è la prima cosa che mi veniva in mente ad ogni gioco presentato e una volta finito tutto. Questo ragazzi è come si struttura un evento del genere. Un'ora e un quarto di giochi, porca troia, di giochi. Uno di fila all'altro, pochissimi discorsi ridotti solo a pochissime frasi di intermezzo e poi trailer, teaser e addirittura gameplay. Questo è quello che mi aspetto da questo tipo di cose, non promesse vane e discussioni su quanto il pene sia più grosso rispetto agli altri. Io amo i giochi, non mi interessa la potenza o il design. Oddio, su questo punto ci torneremo più avanti. Direi di iniziare a parlare dei giochi dagli assenti. Premessa, non sono per niente deluso da questo evento e penso di avervelo fatto capire abbastanza bene e in modo abbastanza chiaro. Però l'ingordigia porta a volere sempre di più e dopo essermi saziato con tutto questo cibo delizioso ne volevo ancora. E l'assenza di giochi come ad esempio Silent Hill che davamo super scontata alla sua presenza e nonostante avessero i Santa Monica dichiarato che sarebbero stati presenti con quasi sicuramente God of War, mi ha lasciato un leggero sapore amaro. Un malamaro buono ovviamente, un po' come quello del cioccolato fondente. Poi diciamoci alla verità, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi con GTA V annunciato per PlayStation 5. Un gioco che avrà più di sette anni sulle spalle, personalmente avrei messo questo annuncio verso la metà e non come apertura. Però come ho già detto direi che si sono fatti perdonare. Peraltro ho notato che questa è stata la prima volta da quando ho iniziato a seguire queste conferenze direct, chiamatele come volete. Altro ieri ma oramai di anni, di veramente troppi anni, che questa è stata la prima volta che un buon 95% dei giochi presentati o mi ha convinto appieno oppure ha attirato la mia attenzione. Sono stati veramente pochi i giochi che mi hanno fatto dire me non mi ispira più di tanto oppure un no grazie. Per quanto riguarda i giochi un po' me troviamo ad esempio Deathloop, capisco il potenziale enorme di questo gioco ma personalmente non mi ispira, non vedo un gioco adatto a me. E Bugsnax per motivi ovviamente ovvi che non sono ovviamente in target con quel gioco. Per inno grazie vado avanti troviamo NBA perché non mi interesso molto di basket anzi quasi per niente e Destruction All Stars, questo figlio legittimo nato da Rocket League e Fortnite che me lo ha fatto scendere non poco. Il classico gioco cometa dove uscirà, avrà il suo momento dove brillerà nel cielo ma poi poco dopo è destinato a sparire, ci faranno dei video simpa, gli youtubers più fighi, i ragazzini avranno le loro prime erezioni con i loro piccoli pisellini e poi basta finita lì. Poi il resto è stata pura meraviglia, abbiamo avuto i grandi come Spider-Man, Horizon, Resident Evil 8, Ratchet & Clank, Ghostwire Tokyo, è pura gioia quel gioco, Returnal, Demon's Souls, cazzo sono anni che lo chiedo, Goodbye Volcano High, questo gioco che mi ha ricordato un po' un Life is Strange in Sansa Fury e mi fermo qui perché veramente andrei a citarli tutti. Ma una delle cose che più mi ha colpito e che non è per niente scontata è stata la varietà di generi presentati, è stato un evento per tutte le bocche, per appunto i bimbi minchia con Destruction All Stars, per gli amanti dell'horror con Resident Evil 8, con Ghostwire Tokyo, Returnal, del puro action come abbiamo visto da Spider-Man, Horizon, delle avventure grafiche come penso che sia Goodbye Volcano High, dei capolavori AAA, come appunto i già citati Spider-Man e Horizon, per persone un po' più giovani con Suckboy e Bugsnax, per gli amanti dello stealth con il ritorno di Hitman, dei giochi di guida con Gran Turismo, del ritorno di grandi classici come Demon's Souls, Ratchet e Oddworld. Insomma, tutti i gusti sono stati accontentati ed è così che secondo me inizia a spingere le vendite, andando a titillare la fantasia di tutto il range di età della tua fanbase. Dai bambini che logoreranno i loro genitori perché bagnano la PlayStation 5 a Natale, agli adulti che cercano qualcosa in più di un semplice spara-spara o di macchine che esplodono. Però ovviamente non mancano i rompi-balle, figuriamoci se non ci sono dei rompi-balle che vanno a rovinare la festa a tutti e che criticano la grafica perché non è next-gen. Ma cari ragazzi, ma state zitti e mangiatevi della gran merda, ma proprio a cucchiaiate con il mestolo da minestra. Perché chi dice questo fa parte semplicemente di due categorie, o lo fanno per il gusto di dar fastidio, che ovviamente piace sempre, oppure sono dei rosiconi fanboy di una certa rivale di Sony. A parte che i giochi con grafica next-gen e che non gireranno mai su PlayStation 4, ci sono stati Horizon, Ratchet & Clank, Gran Turismo e compagnia. Poi ditemi, quando mai a inizio generazione si è visto questo enorme divario rispetto a quella precedente? È normale che ci siano giochi più pompati, e questi di solito sono le esclusive, ma il resto è normale che ci voglia una crescita prima di vedere determinate cose. Cioè, cazzo, The Last of Us 2 non è uscito al The One di PlayStation 4, ma a fine generazione. Però adesso tutti pretendono giochi di quel livello. Poi hanno dichiarato in modo molto intelligente, mettendo le mani avanti, che durante la live non sarebbero stati trailer in 4K, ma che se si vuole apprezzare al meglio, li avrebbero caricati in questo formato post-evento. Quindi, non cagate il cazzo, andate a vederli e poi venitemi a dire se girano benissimo su PlayStation 3. Parliamo dell'elefante nella stanza, ovvero il design della console. Come si è potuto benissimo vedere da live reaction, il primo colpo d'occhio non mi ha convinto per niente. E non l'ho nascosto lì e non lo nascondo tuttora. Questo design futuristico bianco con i led blu e quella parte centrale nera non mi aveva convinto. L'avevo definito un deumidificatore, però forse sembra un po' di più quei cosi della Fibris, come si chiama. Ma comunque quelli che, quando passi, col sensore sbuffano il profumo. Dal punto di vista del design, la versione All Digital, secondo me, è meglio di quella normale. Quella normale, con quel rigonfiamento destinato al lettore CD, non è che sia proprio entusiasmante. Però, piuttosto che comprare la All Digital, mi sparo con una sparachiodi arrugginita in un ginocchio. Però, ragazzi, secondo me è un design con il quale bisogna farci l'occhio. Tanto che, appunto, stamattina, che poi dipende quando verrà caricato questo video, per voi sarà magari la mattina dopo, tra una settimana, due, tre mesi, chi lo sa. Comunque, la mattina dopo l'evento, ho visto di nuovo le immagini e la cosa mi ha turbato meno. Il colore, ragazzi, fidatevi, fa tanto. Per quanto il bianco con il led blu dia un aspetto più futuristico alla console, dopo tre generazioni di console nere, io la voglio nera. La pretendo nera e la comprerò nera. Però, sarò di parte, tra un deumidificatore costoso e il monolite nero di Odissea nello spazio, io continuo a preferire il primo. La domanda adesso è, day one? No, per una serie di motivi. Il primo è perché, appunto, voglio vedere se nei prossimi mesi usciranno altre versioni, soprattutto una nera. Secondo, il prezzo. Come pronosticato, il prezzo, anzi, come anche mi sembra proprio detto da Sony, il prezzo non è stato detto. Si dovrebbe comunque aggirare intorno ai 500, però è sicuro che se mi sparano un 600-700 e passa... No, grazie, aspetto. Terzo, non compro console al day one. Mai fatto e mai lo farò. Certo che la nuova generazione PlayStation è partita con una marcia in più non da poco. Al contrario di una certa conoscenza che, se vuole recuperare terreno e non partire di nuovo svantaggiata, a luglio, quando farà il suo di evento, deve essere un qualcosa di perfetto e impeccabile. Perché combattendo contro questa meraviglia, questa meraviglia di evento, basta il minimo errore che crolli come niente. Io però adesso sono nell'attesa di Nintendo che è totalmente missing in action. Anzi, se avete delle notizie, contattate qualcuno, chi l'ha visto. Io ho fatto il giro di chiamate, dei pronti soccorsi per vedere se era lì. Veramente non si hanno più notizie. E speriamo che una volta che si siano calmate le acque post-reveal PlayStation 5, faccia anche lei la sua bella direct di un'ora con quello che ci aspetta nel 2021. Ma soprattutto, cazzo, nel 2020 che post-uscita espansione dei Pokémon... C'è nulla quasi. Cioè, veramente, sembra che le espansioni dei Pokémon siano le colonne d'Ercole. Cioè che al di là di loro non si sa cosa ci sia. Può essere il nulla. Detto questo, grazie a chi mi ha seguito per questa piccola maratona di video. Vi si vuole, come al solito, un mondo di bene. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a guardare i due video precedenti. E vi ricordo di supportare il canale. Perché più supporto mostrate e più supporto c'è, più video di questo tipo e comunque di vario tipo usciranno. Quindi mi raccomando. Grazie e alla prossima.